Benvenuti qui al centro flecchile della partita trama, Montefusco blu e Rotorio Bonpastore. Il numero 6 ci si invola, cerca di anticipare il portiere, non ci riesce, è una marzina pericolosa per il Bonpastore, ancora Montefusco ci prova, Montefusco col sinistro, Montefusco blu in vantaggio, azione personale, è rete, 1 a 0, ancora Montefusco col destro ci prova, parata del portiere, Montefusco raddoppia, 2 a 0, davanti alla porta sul calcio d'angolo, Giuseppe, giuseppe, parata, Montefusco, col sinistro ci prova, di poco a lato la testa del portiere, Andrea, attenzione pericolosa per la Bonpastore che ci prova, attenzione pericolosa, la mettano al centro, non riescono a ribadire il pallone, ancora Bonpastore, col destro, guarda il portiere, pronto, Rotorio, ancora, in avanti, ancora in avanti col sinistro, rete, 3 a 0 per la Montefusco, sempre Kairos